ciao allora nel video di oggi voglio andare a parlare con voi delle novità che sono uscite da poco da Yves Rocher perché ne voglio assolutamente prendere il più e riuscire ad andare in negozio però intanto che ve ne parlo voglio anche fare l'estrazione di un commentino perché il canale c'è solo grazie a voi il canale cresce grazie a voi vedo crescere giorno dopo giorno sempre grazie a voi e quindi è giusto che ringrazio voi quindi nel video ed è oltre a chiacchierare a ruota libera voglio estrarre anche un commento di qualcuno adesso non so assolutamente chi che si porterà a casa come sempre un premietto mensile un regalino mensile certo non sono mai chissà che cosa però mi fa piacere qualcosina regalarvelo per ringraziarvi cosa bisogna fare per essere estratti niente di che essere iscritti al mio canale e lasciarmi un commento sotto i video ma non solo questo tutti i video perché io guardo le persone attive le persone più attive quelle che mi commentano sempre quelle solite quelle che sono sempre lì ecco loro saranno quelle estratte e basta semplicemente questo essere iscritti ed essere attivi anche solo e io in fondo al video dico sempre di commentare di dirmi qualcosa dirmi se ti è piaciuto dimmi cosa preferireste ecco anche solo questo è già un commento per dire ho visto il video e questo mi piace allora intanto iniziamo con le novità di Yves Rocher che ho visto ultimamente e quelle che mi interessano di più intanto le nuove linee per i capelli per capelli lisci e ricci ora io mi sposto mi sposto qui per un motivo semplice perché qui appariranno le clip dei vari prodotti intanto io le guardo anche su computer allora quelle per capelli lisci con fruttani di agave peptidi di riso abbiamo lo shampoo shampoo in crema senza silicone che aiuta a lisciare i capelli 300 ml 4,95 euro e poi c'è il fluido lisciante che sinceramente questo mi interessa davvero molto anche perché ho qualche problema di capelli perché non sto in questo periodo a stirarli con la piastra o tirarli col phon di qualcosa che aiuta a lisciarli ma magari non li appesantisce mi piace e oltretutto ho visto che oltre a lisciare i capelli azione anti crespo per 46 ore e mi serve davvero tanto e liscia la fibra capillare e oltretutto ha una protezione termo è una termoprotezione fino a 230 gradi quindi ci piace in questo caso vediamo 100 ml 9 euro e 95 ma ovviamente c'è anche la linea per i capelli ricci e hanno fatto quindi la vedete qui lo shampoo in crema per i capelli ricci perché mantiene il movimento naturale dei ricci 300 ml 4,95 la crema districante questa distica e protegge i ricci dell'umidità per 48 ore ah ecco sì perché evita che i ricci diventano cose assurde 200 ml 4,95 e poi c'è la crema modellante per definire e disegnare i ricci perché è una persona davvero riccia e normalmente non ha mai ricci definiti è vero 150 ml 9,95 novità interessanti anche perché sono senza siliconi quindi non avrà pesanti i capelli ci interessa ma ora veniamo altra novità e questa ve la mostro perché mi incuriosisce davvero gli smalti per le unghie go green dicono essere smalti contenente solventi bioderivati che conserva la tenuta la copertura e la brillantezza di uno smalto classico se è vero e questo sono così di provarlo ci piace tanto le confezioni sono da 5 ml 4,95 l'1 e ora vi mostro i colori perché ce ne sono 32 e mi sembra che siano davvero belli dice che la formula è vegan con ingredienti derivati dalla biomassa vegetale come barbabietola, canada, zucchero e legno arricchito con olio di cocchi di stato di bambù per unghie naturalmente laccate e bombate vediamo i colori abbiamo tutti nude e sono davvero belli belli davvero belli poi rosa e rossi ci piace i blu e i verdi e per finire i malva ma sapete che ci piace davvero tanto? se è vero togliamo l'odore di smalto ed è quello classico dello smalto per unghie che ha un odore sempre forte e oltretutto ha una formula anche interessante bisogna vedere se ha durato davvero come gli altri la brillantezza poi si rimuove sempre col solvente però sì penso di sì è da studiare bene ma devo andare a vedere i negozi assolutamente perché sono curiosa potrebbe essere davvero una cosa interessante ma andiamo avanti con un'altra cosa interessante perché abbiamo il gel doccia nella forma questa qui che dice di essere quella eco allora leggo che faccio prima base detergente d'origine naturale formula facilmente biodegradabile formula testata sotto controllo dermatologico flacconi riciclabili realizzati con 100% di plastica riciclata e sono quelli eco concentrati quindi il 100 ml vale come un 400 ml per 40 docce vi ho già parlato di uno di questi prodotti perché l'ho provato e allora credo che siano comodissimi da portarsi dietro perché invece il barattolone da 400 c'è questo da 100 è sicuramente più comodo oltretutto in questo caso fanno una promozione è una promozione si ogni due prodotti acquistati due alberi piantati e obiettivo di 100 milioni di alberi piantati entro il 2020 e oltretutto avevano fatto anche anno scorso e avevano davvero piantato degli alberi ed è dimostrato di averlo fatto quindi una cosa che mi piace allora parlando di questo prodotto è comodissimo penso da portarsi in giro ma anche solamente per avere varie profumazioni nelle mobile del bagno senza avere bartoloni questi piccolini se ne possono mettere anche di più oltretutto unica cosa che avevo notato io è che dato che ha una tappo a valvola che premete una volta e riesce la giusta quantità di prodotto per una doccia per quanto riguarda il mio tipo di acqua era troppo prodotto quindi non riuscivo a gestirlo bene perché ho l'acqua dolce e poi anche l'addolcitore quindi basta davvero poco prodotto in questo caso è concentrato ne usciva troppo dovevo andarlo a misurare io unica cosa che ho riscontrato se no stavo lì col sapone per chissà quanto tempo unica cosa che ho riscontrato per il resto tutto quanto mi piace per tutta l'idea che c'è dietro allora la confezione è un 100 ml come ho detto il prezzo di 3,95 e sono uscite le nuove perfumazioni quello mango vaniglia poi abbiamo fiore di lotto lampone mellagrano tutti erano quelli grossi fra quelli classici li hanno fatti eco anche per l'estate così se uno si porta in viaggio in borsa in palestra fiore di tiaree oliva lavandina e basta e adesso andiamo avanti con l'ultima novità che mi interessa anche questa le ingrandisco le nuove maschere viso sapete che sono un amante delle maschere viso in questo caso abbiamo hanno creato delle nuove maschere e le guardiamo assieme le confezioni sono da 30 ml quindi sono quelle piccoline classiche che vanno bene anche da portarsi per un weekend o per una vacanza 5,95 luna c'è quella alla calendula che è rigenerante maschera balsamo rigenerante nutre e rigenera la pelle ad esempio ottima per dopo esposizione al sole oppure quella che allenisce maschera mousse venitiva con camomilla bio il fatto che sia in mousse mi piace sono curiosa di provarla anche solo per quello poi gommage granita luminosità grazie al stato di antemis bio per ravvivare la luminosità della pelle texture granita e sfoglia la pelle con delicatezza curiosa di provare anche questo e poi quella purificante la maschera gel purificante alla menta piperita bio elimina le impurità e purifica istantaneamente la pelle allora menta piperita bio la menta piperita effettivamente ha le proprietà qualificanti io mi ricordo la classica mitica famosissima mascherita piperita di lash e davvero funzionava quindi sono curiosa di provare anche questa direi che sono davvero curiosa di provarle tutte queste erano tutte le novità per il momento e adesso procediamo all'estrazione e nel mese ho visto che ci sono tre persone che commentano sempre però di queste ho deciso di sceglierne solo una le altre due continuate a commentare sempre desertivi perché verrà sicuramente il vostro turno a breve allora la persona che ho scelto è iscritta al mio canale da tantissimo tempo e è giusto e dato che commenta tutti i video è giusto che questa volta il premietto il premietto regalino ce l'abbia e è Harmony Jets Studio comunque scrivo anche qui ed è complimenti grazie per supportarmi scrivimi o sulla mail o nell'infobox comunque sia ci sono tutti i miei contatti sulle pagine instagram facebook nei premi passati ci sono ragazze che mi hanno contattato su facebook altre su direct instagram io rispondo a tutti quindi mi trovi tranquillamente instagram facebook nella mail e nell'infobox contattami per mandarmi il tuo indirizzo ci sono e mi trovi sicuramente e niente io vi do appuntamento al prossimo video mi raccomando sempre essere iscritti e commentare ed è ciao ciao ehi sono qui ciao ti sei ricordato di mettere un commentino mi raccomando mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale solo così potrai ricevere un regalino da me lo sai che estraggo ogni mese ciao 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 ciao